questa è la seconda parte di posizioni faticose quindi se non avete visto posizioni faticose 1 la prima parte non vi potreste spaventare nel vedere quest'altra parte allora vedete questo è un problema cosiddetto problema lungo il problema di prima quello con i triangoli rettangoli verde e giallo e ora vi propongo una sfida voi mettete in pausa il video vi guardate un attimo il problema non regista non il regista deve mettere in pausa non mettere in pausa gli spettatori mettono in pausa guardano il problema e cercano di capire che cosa è stato fatto vi do un piccolo indizio i dati sono stati disegnati di nero sulla figura i dati cioè le cose che abbiamo vediamo se riuscite a capire piano piano cosa è stato trovato e in che cosa consisteva questo problema l'incognita è trovare il perimetro ok noi usciamo da questo video e ci diciamo catapultiamo un esempio molto più facile e veloce abbiamo ad esempio un trapezio rettangolo è chiamato così perché ha un angolo retto c'è un triangolo rettangolo è vero il problema è che poi disegnando la diagonale non possiamo capire quanto valgono le misure dei lati di un triangolo che invece rettangolo non è quindi quando in una figura dobbiamo disegnare un triangolo rettangolo dobbiamo sceglierlo in modo intelligente cioè scegliere quel triangolo rettangolo che ci fa trovare tutto ad esempio video i dati qui abbiamo la base che misura 15 centimetri a base maggiore questo 15 la base minore misura 10 centimetri e l'altezza facciamo che misura 10 centimetri come la base minore incognita cognita trovare il perimetro del trapezio costruire in maniera intelligente il triangolo rettangolo significa costruirlo in modo tale da trovare questo lato quindi il triangolo rettangolo va costruito in un punto preciso cioè dove ci permette di trovare la misura di questo lato se dal vertice tracciamo la perpendicolare ci accorgiamo di due cose innanzitutto che la perpendicolare il segmento perpendicolare la base alla stessa misura dell'altezza perché in un trapezio le rette sono parallele quindi sono equidistanti tra loro quindi anche questo segmento misura 10 centimetri in più ci accorgiamo da una semplice differenza differenza di segmenti che ci possiamo ricavare anche quello che è chiamato cateto minore ora vi disegno il triangolo rettangolo quindi che bisogna considerare questo qua cateto cateto e ipotenusa questo è il triangolo da considerare perché l'ipotenusa è il lato che bisogna trovare per risolvere l'esercizio la misura di questo cateto ok non sappiamo se è maggiore o minore però la misura di questo cateto si può trovare per differenza tra la base maggiore e la base minore facendo praticamente nello svolgimento dalla regia possiamo evitare questi consigli allora questo cateto si trova facendo la differenza fra la base maggiore e la base minore al posto delle lettere possiamo inserire i numeri 15 centimetri meno 10 centimetri quindi se la regia dice che sono facilissimi allora abbiamo trovato il cateto che adesso abbiamo capito essere minore perché misura 5 l'altro cateto misura 10 se abbiamo due cateti possiamo trovarci l'ipotenusa che coincide con il lato obliquo del trapezio ipotenusa coincidente con il lato obliquo la formula che ci aiuta è quella del teorema di pitagora ancora una volta ipotenusa uguale la radice del cateto maggiore alla seconda più il cateto minore alla seconda al posto delle lettere inseriamo i numeri 10 alla seconda più 5 alla la seconda da cui 100 più 25 adesso abbiamo imparato che la radice di 125 non è un numero 11,4 esatto possiamo trovare anche l'altro problema precedente 125 è 11,18 circa circa 11,18 centimetri a questo punto possiamo trovare il perimetro perché il perimetro è dato dalla base maggiore più base maggiore più altezza più base minore più il lato obliquo che è uguale all'ipotenusa cercata e quindi vedete come i dati li inseriamo tutti sì 15 più 10 più 10 più 10 più 11,18 ma che facilità questo problema quindi 10 20 35 35 più 11 46 46,18 centimetri questo problema così facile vi farà capire il problema complicato ok adesso vi salutiamo perché ora di cena buona cena anche a voi arrivederci ciao ciao